amici di freser tv lo vedete tornato con noi ronaldo quindi bentornato a vercelli grazie come stai innanzitutto no sto abbastanza bene più che altro sono più contento che sono qua con i ragazzi e niente adesso continuo il mio percorso e speriamo che di continuare così senza problemi sei tornato venerdì sera dopo praticamente più di un mese anzi due mesi a roma che cosa ti hanno detto i tuoi compagni quando ti hanno rivisto no più che altro erano contenti mi hanno chiesto come stavo così e si parla di tempi di recupero è un argomento sempre molto delicato sul quale diciamo anche dire delle parole però si parla di altri due mesi tu fine marzo almeno ovviamente l'ha detto anche il direttore sportivo in conferenza stampa quindi confermi due mesi ancora prima di rivederti in campo no ma sui tempi è un po difficile da dire no poi sicuramente chi chi darà l'ok sarà il dottore finché lui non lo dice no però se continuo così senza nessun problema spero che tra due mesi essere quasi pronto diciamo hai assistito alla partita della pro sabato contro l'avellino però si riguarda già a quella di catania tu quella di catania in casa però te la ricordi bene sì per forza certo che me la ricordo però comunque niente dopo la partita avellino abbiamo subito un'altra partita difficile e siamo contenti del pareggio anche se non abbiamo fatto una partita come le altre però va bene lo stesso e adesso c'è il catania e sicuramente sarà una partita difficile si parla anche di mercato in casa pro vercelli il nome diciamo così più vicino accostato alle bianche casacche quello di franco signorelli un giocatore dell'empoli che tu conosci bene sì no infatti oggi prova sentirlo per vedere cosa mi dice però da quello che mi hanno detto forse forse può venire da noi e sicuramente ci darà una mano un bravissimo ragazzo mi farà molto piacere se se viene benissimo allora ringraziamo ronaldo per essere stato con noi e buon lavoro grazie bene ciao 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 Noi c'è l'IAE! Noi c'è l'IAE!